Vediamo adesso in che modo sia estremamente semplice per il calcolatore, ma di fatto anche per gli esseri umani, effettuare i calcoli in base binaria. Ho già preparato due numeri, che sono rispettivamente 53 e 55, convertiti in base 2. Partiamo facendo le operazioni tipiche dell'elementare. Quindi 1 più 1 fa 2, ma 2 non lo possiamo scrivere, lo scriviamo in una forma di 1, 0, quindi 0 qua e riporto 1. 1 più 1 fa ancora una volta 2, cioè 1, 0, scrivo 0 e riporto 1. 1 più 1 più 1 fa 3, ma 3 lo dobbiamo scrivere in forma 1, 1, quindi 1 e riporto 1. 1 più 0 più 0 fa ovviamente 1. 1 più 1 fa 0 e riporto 1. 1 più 1 più 1 fa 1, con riporto di 1. 1 più 0 più 0 fa 1. E 0 più 0 fa 0. Le cose però non vanno sempre lisce. Prendiamo quest'altro caso, 129 più 129, per semplicità, e operiamo come nel caso precedente, quindi 1 più 1 fa 0, con riporto di 1. 1 più 0 più 0 fa 1. Tutti questi sono ovviamente 0, 0, 0. 1 più 1 fa 0, con riporto di 1. Purtroppo però non abbiamo lo spazio sufficiente per memorizzare questo nono bit. E quindi questo bit verrà cancellato, buttato via, oppure segnalerà una qualche forma di errore a seconda dei casi. Grazie. 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 Grazie.